buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buona settimana questa è la settimana che va dall 8 al 14 agosto 2022 spero che quella passata sia stata soddisfacente e vediamo che cosa ci portano i pianeti in dono durante questa settimana le novità sono sostanzialmente due venere entra nel segno del leone l'11 quindi giovedì 11 agosto alle 20 e 29 quindi la sera quindi lascia il cancro un segno dove venere è esaltato ed entra nel leone quindi l'affettività si carica di maggiore calore di maggiore generosità anche il leone è un segno di fuoco e venere che è il pianeta che rappresenta l'erotismo l'affettività l'amore anche il senso estetico si accende proprio del fuoco del leone in questo segno si guarda un pochettino più all'esteriore all'estetica anche le relazioni affettive si ammantano dell'orgoglio del leone quindi si cercherà un partner prestigioso qualcuno di cui freggiarsi in un certo senso quindi o persone molto belle esteticamente oppure che hanno delle posizioni importanti questa posizione di venere avrà ovviamente un effetto rivitalizzante su tutti i segni di fuoco e anche su due segni d'aria ovvero la bilancia e i gemelli mentre invece l'acquario che è opposto il segno opposto rispetto al leone vedrà la propria affettività le proprie avventure amorose un pochino più in bilico diciamo venere rimarrà in questo segno o meglio percorrerà questo segno fino al 5 settembre quindi in questo periodo saremo tutti un pochino influenzati da questa posizione che dà più impulsività in amore e nelle relazioni affettive dà più voglia di aprirsi di essere anche generosi calorosi chi sono quali sono invece i segni che più soffrono per questa posizione oltre all'acquario che ovviamente è in opposizione quindi potrebbe anche sentirsi meno sicuro di sé gli appartenenti al segno potrebbero sentirsi meno un po meno sexy del solito un po più incerti un po più insicuri anche del proprio sex appeal e anche scorpione e toro che sono i segni in quadratura rispetto al leone potrebbero essere un po meno sicuri oppure lasciarsi andare a piccole recriminazioni a insoddisfazioni perché quando venere non è in buon aspetto può darci appunto insicurezza sul nostro aspetto sul fatto di essere amati piccole gelosie quindi in sostanza rivitalizzazione della vita amorosa in questo mesetto che segue quindi dall'11 d'agosto fino al 5 settembre per leone ariete sagittario bilancia e gemelli mentre un po di non dico pene d'amore quello no ma qualche insicurezza in più per acquario toro e scorpione rimangono invece neutri rispetto a questa posizione gli altri segni che non ho nominato l'altra novità insomma l'altro diciamo evento astrologico e astronomico importante è la luna piena che si verifica il 12 quindi venerdì ed esattamente alle 3 e 36 di notte e al diciannovesimo grado dell'acquario infatti la luna piena indica un'opposizione tra sole luna il sole ovviamente è in leone e la luna sarà nel segno dell'acquario questo indica un equilibrio tra due stanze importanti che riguardano da un lato l'individuazione l'essere se stessi l'appropriarsi pienamente delle proprie capacità dei propri talenti espressivi e dall'altro l'essere in equilibrio e anche avere considerazione degli altri quindi avere considerazione della nostra comunità quindi un equilibrio sottile a volte non sempre facile da ottenere tra l'individuo tra la personalità dell'individuo e il confronto con la comunità con gli altri l'acquario poi è un segno sempre la ricerca dell'equilibrio dell'armonia e invece il leone ha la tendenza a spendere al massimo le proprie energie a non a non risparmiarsi quindi anche qua la lezione di imparare invece a bilanciarsi quando c'è da buttarsi da spendere da fare le cose buttiamoci ma anche cerchiamo di mantenere un certo equilibrio per non rimanere completamente esauriti e senza energie senza risorse quindi questi sono i due fenomeni astrologici più importanti rivediamo come sono le posizioni degli altri pianeti partendo da plutone che è il pianeta più lento a parte eris ed è a 26 gradi del capricorno quindi ancora da fastidio a chi è nato nell'ultima settimana del cancro della bilancia e dell'ariete mentre invece riesce a dare molta forza e fiducia in se stessi risorse anche una scoperta delle proprie risorse personali plutone quindi in questo caso a chi è nato nell'ultima settimana di capricorno scorpione vergine pesci e toro nettuno si trova nei pesci a 25 gradi quindi i due pianeti sono comunque in se stile un buon aspetto è un aspetto questo di se stile che dura da decenni da tantissimi anni ed è una sorta di protezione che speriamo duri ancora per un po perché siamo ormai all'ultimo periodo in cui questo questo se stile si sta si sta verificando ovviamente si tratta di protezione generale su sul nostro mondo sulla nostra civiltà globale io credo che se non c'è ancora stata una terza guerra mondiale è anche grazie a questo a questo aspetto che è iniziato nel 1950 e durerà fino al 2032 e quindi teniamocelo buono finché c'è la posizione di nettuno che è sempre un pianeta molto lento rimane in un segno per 14 anni anche in questo caso riguarda chi è nato nell'ultima settimana di pesci toro cancro capricorno e scorpione in senso positivo e nettuno cosa da nettuno da fantasia da quel guizzo di di genialità da una grande immaginazione è una è un effetto a volte sottile che non si riesce a percepire pienamente ma guardandosi dietro nel tempo poi si vede dove ci ha portato quando invece nettuno è in aspetto diciamo dissonante può creare confusione come una specie di nebbia a volte non riusciamo a vedere veramente la direzione in cui andare in questo caso sono influenzate le persone nate nell'ultima settimana di sagittario gemelli e vergine che quindi ancora diciamo che subiscono questo aspetto da parecchio tempo e questo aspetto può confondere notevolmente le idee sulle azioni da intraprendere urano è il diciamo pianeta più lento dopo plutone nettuno rimane in ogni segno sette anni in questo momento è in toro a 18 gradi del toro quindi diciamo alla fine della seconda decade la settimana scorsa era congiunto a marta adesso marta invece a 22 gradi sempre del toro e vi avevo spiegato che è una congiunzione un po' deflagrante un po' pericolosa perché è molto dinamica molto attiva e può diciamo è difficilmente gestibile è come una specie di bomba per fortuna si sta ormai sciogliendo quindi i suoi effetti se ci sono stati ci sono già stati e hanno sicuramente influenzato chi ha dei valori astrologici alla fine della seconda decade di scorpione leone e acquario in modo un po' più difficile e faticoso mentre invece può avere dato una bella spinta in avanti nelle attività nelle idee nel lavoro o in altri ambiti alle persone della seconda della fine della seconda decade del toro del cancro della vergine dei pesci e del capricorno ora marte si sta dedicando per questa settimana a chi è nato nella terza decade quindi terza decade del toro darà una bella spinta marte rappresenta l'energia l'aggressività in questo momento sta formando un aspetto di quadratura con saturno ecco questo può essere un blocco che riguarda soprattutto chi è nato nella terza decade di acquario toro leone e scorpione sono un po i segni che vedete stanno tornando in continuazione e sono i segni più al centro di queste configurazioni anche di tensioni sia attivanti perché sono configurazione che danno anche una spinta in avanti ma che possono anche diciamo andare un po fuori controllo quindi consiglio assoluta cautela per chi ha valori astrologici nella terza decade di questi segni nel corso della settimana si attiva anche un'altra quadratura tra sole e urano anche qua sole ovviamente è in leone urano rimane sempre in toro e quindi anche qua questi segni che sono i segni della croce fissa quindi sono i segni diciamo di metà stagione di mezza stagione ebbene è importante che cerchino prima di tutto di togliere elementi di stress fonti di stress e rilassarsi e non lasciarsi coinvolgere in situazioni o in attività che possano appunto generare conflitti e passiamo a giove giove il più veloce dei pianeti lenti oppure il più lento dei pianeti veloci bisogna vedere un po come si vuole guardare alla questione rimane in un segno un anno all'incirca in questo momento giove è in ariete è retrogrado e sta tornando verso l'inizio del segno dell'ariete poi rientrerà anche negli ultimi gradi del segno dei pesci in autunno in ogni caso la presenza di giove che ovviamente riguarda la prima decade di chi è nato nei segni di fuoco soprattutto ma anche dell'acquario dei gemelli è una una presenza corroborante in grado di dare fiducia ottimismo slancio quindi in questo momento sicuramente i segni di fuoco sono avvantaggiati perché oltre la presenza di giove c'è solo il sole nel nel leone e presto appunto tra pochi giorni entra venere nel leone e tra l'altro proprio oggi lunedì c'è anche la luna in sagittario un altro segno di fuoco ma questo lo vediamo dopo giove definito il grande benefico è sempre una un'influenza di solito molto positiva ovviamente da come dicevo slancio ma da anche la capacità di essere al momento giusto nel luogo giusto e questo quindi riguarda ovviamente che ha dei valori astrologici nella prima decade dei segni di fuoco e anche di acquario e di gemelli invece per quando quando l'abbiamo in in opposizione un quadratura quindi in posizione dissonante giove può essere può toglierci un po di ottimismo un po di di vitalità di audacia di voglia di fare è una influenza un pochettino demoralizzante o al contrario ci può indurre in esagerazioni che ovviamente non hanno non hanno base e quindi potremmo essere indotti a mangiare troppo a bere troppo a spendere troppo ecco queste sono un po le influenze di giove in senso negativo e questo riguarda chi è nato nella prima decade o comunque chi ha valori astrologici nella prima decade di bilancia cancro e capricorno di marte abbiamo già parlato che appunto il suo passaggio in questo momento riguarda i nati nella terza decade di toro cancro vergine pesci capricorno in senso positivo quindi dando audacia coraggio spinta a fare energia mentre invece su chi è nato nell'ultima decade di scorpione leone e acquario potrebbe avere un effetto dirompente può aumentare l'aggressività la rabbia ma senza poi avere l'energia sufficiente per poter far fronte per esempio delle provocazioni a delle situazioni che noi stessi potremmo suscitare potrebbe far aumentare anche la gelosia magari immotivata quindi chi appartiene all'ultima decade di questi segni o chi ha valori astrologici se sapete di avere dei pianeti in questa ultima decade di scorpione leone acquario ebbene fate un po attenzione a non lasciarvi prendere la mano da situazioni conflittuali venere abbiamo già visto entrerà nel leone giovedì 11 il lunedì si trova ancora a 25 gradi del cancro quindi nei primi tre giorni della settimana percorre gli ultimi gradi di questo segno e ovviamente ha un buon effetto a livello sentimentale affettivo erotico su chi ha valori astrologici nell'ultima decade del cancro della vergine dello scorpione del toro e dei pesci ahimè in questi primi giorni della settimana fa anche un'opposizione cioè si crea un'opposizione tra venere e plutone questo può incidere sulla sicurezza affettiva diciamo che porta un po di distruttività a livello di affettività di sentimenti con sensi di colpa tendenze autodistruttive soprattutto nelle relazioni per chi ha dei valori astrologici alla fine di capricorno cancro ariete e bilancia mercurio il lunedì è a 6 gradi della vergine è molto veloce in questo momento il passo di mercurio perché infatti entrerà in bilancia il 26 agosto quindi in questa settimana potrà approfittare della della cume della capacità di percezione dell'intelligenza mercuriale chi ha dei valori astrologici tra prima e seconda decade dei segni di terra ma anche di scorpione e cancro e mercurio riesce anche a agevolare le nostre relazioni la nostra comunicazione con gli altri bene abbiamo visto un po tutte le posizioni dei pianeti e gli effetti che più o meno avranno sui vari segni ma ora vediamo la situazione segno per segno e ovviamente cominciamo come sempre con la riete il primo segno dello zodiaco segno di fuoco segno cardinale la settimana si apre con un po di alti e bassi perché c'è una bella luna ovviamente abbiamo poi giove nel segno ma venere in quadratura a chi ha dei valori astrologici alla fine del segno della riete potrebbe dare qualche malumore qualche in sofferenza soprattutto a livello delle relazioni sentimentali la cosa ovviamente migliora soprattutto da giovedì quando anche venere entra in leone quindi avrà un effetto dirompente dal punto di vista sentimentale erotico quindi di seduzione di capacità di attrarre le persone verso di sé per i nostri amici dell'ariete dal punto di vista dell'umore sappiamo che è la luna soprattutto a essere la fautrice dei nostri stati d'animo momentanei i lunedì si apre bene con la luna in sagittario ma poi la luna in capricorno può diciamo non essere proprio così easy per i nostri amici ariete e quindi martedì e mercoledì saranno all'insegna un po degli alti e bassi umorali molto meglio le giornate di giovedì e venerdì con la luna in acquario quindi in buon aspetto rispetto ai nostri amici arieti in sostanza la settimana comunque migliora nettamente a partire da giovedì e passiamo al toro che abbiamo visto un segno un po al centro di alcune configurazioni molto attive molto dinamiche ma anche un po borderline c'è stata questa congiunzione marte urano marte ancora presente nel toro quindi dà una bella carica anche aggressiva ai nostri amici toro soprattutto se fanno parte della terza decade mercurio un buon aspetto dalla vergine li aiuta aiuta i tori a reggere un po la situazione a gestire la situazione a essere razionali nonostante l'aspetto di dissonanza del sole e quello di saturno insomma la situazione non è di tutto riposo ci saranno sicuramente delle novità delle cose che magari non accoglierete proprio con grande favore ma riuscirete a gestire sempre tutto al meglio le giornate migliori grazie alla una bella luna in capricorno saranno quelle di martedì e mercoledì e poi anche il weekend sabato e domenica con la luna in pesci sarete sicuramente molto più tranquilli e rilassati e vediamo come va per i gemelli segno d'aria segno mutevole in questo momento non ci sono pianeti nel segno dei gemelli ma ci sono tanti aspetti a favore e anche qualcuno contro sicuramente il sole il leone fa bene alla rivitalizzazione dei gemelli e poi quando anche venere entrerà in leone veramente dal punto di vista sentimentale erotico le cose andranno alla grande quindi a partire da giovedì e poi per tutto il resto del mese mercurio in vergine invece può darvi qualche fastidio per cui potreste non essere sempre sul pezzo non essere sempre attenti o concentrati e quindi attenzione a sottovalutare alcune situazioni soprattutto il lunedì con la luna in opposizione fate attenzione perché anche l'umore potrebbe non essere al massimo sicuramente il tutto migliora dalla sera di mercoledì e quindi mercoledì giovedì e venerdì fino in serata sarà invece saranno delle giornate molto piacevoli dove vi sentirete in armonia con il tutto e poi attenzione ancora sabato e domenica con la luna in pesci quindi dissonante potreste avere ancora qualche momento di insofferenza o insomma con l'umore un po' un po' giù il cancro segno d'acqua segno cardinale approfitti degli ultimi giorni con venere nel segno per veramente dire quello che deve dire alla persona nel cuore o riconciliarsi con parenti amici insomma venere nel segno è veramente un'occasione che capita una volta l'anno quindi approfittatene per il resto a parte l'opposizione di plutone e la quadratura di giove avete quasi tutti gli altri pianeti a vostro favore quindi mercurio che vi aiuta a comunicare bene a essere anche concentrati un bel marte urano che vi aiutano a essere audaci ad avere energia per portare avanti le vostre cose è un bel nettuno che vi dà una bella intuizione una bella fantasia vediamo le giornate migliori per questa settimana sicuramente allora le giornate no sono quelle che vanno dal lunedì sera al mercoledì sera quando la luna è in opposizione e quindi lì potrebbe esserci qualche down il momento clou della settimana è quella che va dal venerdì sera alla domenica sera quindi tutto il weekend compreso con una bella luna in pesci che per voi è veramente come acqua da bere acqua fresca che vi ritempra vi vi rivitalizza il leone sta vivendo il suo momento d'oro con il sole che passa nel segno e presto anche venere che quindi fa esplodere gli amori estivi le grandi passioni il leone però anche al centro di tante configurazioni conflittuali l'opposizione di saturno la quadratura di marte urano quindi deve fare attenzione a non essere troppo provocatorio il plenilunio che appunto avverrà venerdì può tirare fuori anche gli estremi può far emergere le situazioni che sono lì lì che ancora non si esprimono e quindi fate ancora di più attenzione ma come sappiamo il plenilunio può essere sempre anche un'occasione per riflettere su se stessi e per correggere i propri difetti per imparare qualcosa da se stessi cari leoni soprattutto voi perché in questo momento vi tocca in modo particolare per la vergine è un bel periodo l'unica preoccupazione è sempre nettuno in opposizione che come dicevo prima da qualche problema di concentrazione o di illusione per chi è nato nella terza decade per il resto avete tutti i pianeti a vostro favore c'è mercurio che sta passando nel segno vi aiuta a essere concentrati marte urano sono a vostro sono vostri alleati in questo momento così come plutone quindi potete portare veramente avanti anche se siete in vacanza portate avanti i vostri progetti perché veramente questo è un momento di grande grande energia e attività la settimana si apre con la luna in sagittario quindi dissonante quindi potreste avere qualche malumore nella giornata di lunedì ma sicuramente le cose migliorano quando la luna entra in capricorno quindi da lunedì sera e quindi tutto martedì e mercoledì avrete una lucidità ancora maggiore attenzione invece il weekend con la luna in pesce quindi opposta perché potreste anche qua avere qualche malinconia qualche momento un po di defiance per la bilancia segno d'aria segno cardinale le cose si mettono meglio a partire da giovedì quando venere entra in leone quindi in posizione favorevole fino a quel momento sicuramente l'umore non è proprio il massimo anche se il sole il leone già ha fatto molto per voi per rivitalizzarvi però sappiamo che non è un momento difficile c'è giove opposto plutone ancora quadrato quindi questa venere è stata quadrata tutto quasi tutto il mese scorso e quindi l'umore e la vitalità non erano al massimo ma le cose appunto migliorano a partire da giovedì in realtà anche il lunedì con la luna in sagittario vi aiuta ad affrontare questa settimana in modo baldanzoso ma ahimè martedì e mercoledì con la luna in capricorno ancora un po cadete giù insomma l'energia cala un po giovedì e venerdì invece con la luna in acquario quindi intrigono al vostro segno e venere che entra in leone quindi anche qua in posizione favorevole ecco comincerete a sentirvi veramente diversi e a riprendere in mano tutta la gestione della vostra vita che avevate forse un po lasciato andare per lo scorpione anche esso al centro di configurazioni un po conflittuali e quindi un periodo sicuramente questo che da un po di tempo dura ed è abbastanza difficile le cose non migliorano con l'entrata di venere in leone che va un po ad esacerbare le situazioni preesistenti quindi fate attenzione cari scorpioni le giornate migliori di questa settimana sono martedì e mercoledì con la luna in capricorno e il weekend con la luna in pesci e passiamo al sagittario segno di fuoco mutevole che vede sicuramente le proprie quotazioni migliorare con l'entrata di venere in leone e lunedì inizia bene la giornata la settimana inizia bene con la luna in sagittario giovedì e venerdì sono forse le giornate migliori della settimana mentre invece il weekend con la luna in pesci fate attenzione cari sagittari a non essere un po troppo confusi e distratti già mercurio in vergine non vi aiuta a mantenere la concentrazione capricorno segno di terra cardinale abbiamo visto al centro anche il capricorno di alcune configurazioni di tensione ma che comunque ha parecchi alleati in cielo e da giovedì con la cessazione dell'opposizione di venere che in cancro ovviamente è opposta al capricorno ebbene sarete anche un pochino più tranquilli a livello affettivo e sentimentale per voi le giornate migliori sono sicuramente il martedì e il mercoledì quando la luna passa nel vostro segno ma anche il weekend con la luna in pesci perché è una luna a voi favorevole acquario segno d'aria e segno fisso per il quale l'estate sempre un po faticosa con il sole in opposizione nel segno del leone ebbene anche per voi come per il leone la luna in acquario la luna piena in acquario quindi opposta al sole è il momento veramente per riflettere su di voi e per fare il punto della situazione su cosa volete dalla vostra vita dove volete andare in questo momento in cielo avete come alleato solo giove quindi è un momento delicato in cui veramente riflettere profondamente le giornate sono più proficue sono quelle del lunedì e poi ovviamente quando la luna nel vostro segno quindi da mercoledì sera a venerdì sera e infine concludiamo con il segno dei pesci segno d'acqua mobile in questo momento l'unico crucio dei pesci è mercurio in opposizione e quindi la mancanza di concentrazione la facilità a perdersi un po a essere poco poco efficaci poco efficienti però in realtà avete un sacco di altri pianeti a vostro favore marte urano dal toro venere in cancro nel almeno nei primi giorni della settimana plutone in capricorno e anche nettuno nel vostro segno lunedì non sarà il massimo delle giorni della giornata per voi perché la luna in sagittario questo sempre vi vi mette un po di malumore o ansia insomma quella sorta di irrequietezza ecco che non vi piace certo provare molto meglio il martedì e il mercoledì con la luna in capricorno e poi il weekend con la luna nel vostro segno quindi potete concludere la settimana veramente in bellezza e godervi pienamente questo periodo estivo bene non mi resta che augurarvi un'altra settimana d'agosto quindi di vacanze spero almeno per voi da sfruttare al massimo con veramente la leggerezza la gioia che questa stagione di solito porta approfittate della luna piena se riesco farò anche questa volta una meditazione riguardante la luna piena in acquario e quindi spero di avere il tempo di farla fatemi sapere nei commenti se avete richieste particolari se volete che parli di qualcosa in particolare altrimenti ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo oroscopo settimanale e vi auguro ancora tutto il meglio vi ricordo poi come sempre di considerare queste previsioni ovviamente delle linee guida generali ma non pensate mai di essere i destinatari perfetti di queste previsioni perché questo è rivolto al segno mentre voi non siete il segno voi siete un mix di segni avete ognuno di voi una personalità specifica unica ed è un mix ognuno di noi il proprio tema natale è un mix veramente unico di influenze astrologiche e con questo vi saluto davvero ciao e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica marillis.com